Nel fucile, gli occhiali, non guarda che assenso gli ha dato. Mai fermarsi, se non te la contesta una voce, la contravenzione non è valida. Oh, studi procedura, ma che avvocato sei? Guarda come donna l'uomo. Ribella di schiavo, sciogli i cani. Nato per servire. Nato per servire. Sono nelle mani di un pazzo. Hai avuto paura? No, no, guida bene lei. Ma che sei matto, mi dai ancora di lei? E dammela tu, no? Ormai ci conosciamo. Va bene. Ah, grazie. Non guardarlo, che segno di meno. Vanno a più forte? Spingo. Bella pupa, eh? Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ah, sì? Beh, io le tombe etrusche me le attacco a... Vai, cavolina! Vai! Attenzione, sta arrivando la polizia stradale. Non correre. E nonno, non hai voluto venire? L'avete lasciata a casa? Le belle famiglie italiane. Buon viaggio! E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza. E invece aveva marito. A sua memoria ho messo il disco di Foix da Terracina a Roma. E come si chiama? La sposa infedele lì di Coso, quello spagnolo, quello un po'... Garzia Lorca. Ah, ce l'hai pure tu, il disco. Tiè, metti questo. È un modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica. Questo, per esempio, c'è forte. È mistico, sa, è una cosa che te fa pensare. La musica. A me il modugno mi piace sempre. Questo uomo in fracca me fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece... Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va de moda oggi, la... L'alienazione, come nei film di Antonioni, no? L'hai vista Eclisse? Sì, è un film... Io ci ho dormito, una bella pennichella. Bel regista, Antonioni. C'ha un Flaminio zagato, volta sulla fettuccia di Terracina, affatto allunga il collo. Ma guardasi se scassa. Reggio il volante. Che dici? L'avranno viste? L'ammazzano. E questi che piacciono coi piedi di fuori? Buongiorno, ma voglio comprare un paio di tronchesi e... Zaccheve! Gli taglio, no? Eh, difesa del paesaggio. Oh, è robé. È robé, guarda un po' qua dietro. L'hai viste? Chi? Queste due, qua dietro a noi. Adesso me faccio superare, così attacchiamo. Eh? Eh, addio, bube! Deutsche, han Cagliardo, le tedesche si stanno superare. Tu lo conosci, il tedesco? No, ma me l'immagini. Hello, darling! Quella a destra da guardare. A me? Eh, come no! Ah, va! Ah, sì, hai fatto colpo. Vabbè, non dico che mi sacrifico, ma io quell'altra, quella che guidate, va bene? Qui si mangia da dio. Ah, un mare di deschine. Infermiamo, dai. Ma che vu? Parla a latino, vuole sapere se abbiamo un cric. E come si dice che non ce l'abbiamo? Non abbiamo. Non abbiamo un cric, desolato. Mannaggia, siamo persi le donne, mo. Amen. Grazie. Ai, vivio. Lo vedi questo? Si è fatto un panino. Mannaggia, ma fatto veni fa pure a me? Magna, magna, zanna! A chi rimani a pranzo a casa pure a Ferragosto? A chi rimani a pranzo? Io andavo quel punto, ma è meglio la macchina, non volevo disturbarti. Disturbarmi a me? Senti, Roberto, io certe cose non te le so spiegare bene perché sono un tipo chiuso. Però pure se te conosco da poche ore, quando quella mi ha detto che te ne eri andato, in fondo mi è dispiaciuto. Ah, non te dove si crede che mi piacciono nomini, eh? Tu poi, tu, proprio non sei il tipo mio. Ci cambia la marmitta, ci metto un tubo dritto, guadagno due chilometri. Salta, va! Sì, sì, ci cambia il pugno. E con la cameriera come ti è andato? Niente, sono andato in bianco. Appena l'ho baciata mi ha messo le unghie in faccia e ha cominciato a strillare. Mi è andata male, però la padrona mi ha rimediato le sigarette. Non è possibile, uno come te non riesce a conquistare una cameriera. È già bravo, sono i più difficili. Con le signore va sempre bene, ma con quelle... Lo sai che ti dico, Robè, mi sai che se ci andavi tu, combinavi. Sì, sì, eri innamorata di te. Ho capito dalla zuppa di pesce. Ti ha dato tutti i cameretti più grossi. Buon ferragosto! L'anno scorso sul bracco ti incrocio una torinese con un radiatore a secco che fumava. Le offro un passaggio per andare a cercare un secchio d'acqua. Lei monta, si parla di più del meno, arriviamo a un motel. Insomma, per fartela breve, invece del secchio d'acqua, ci siamo fatti da una stanza. Guarda sti cornuti se mi danno strada. Andò, Anna, costa 600? No, ma questa è imbriaco, signora. Politi. Oh, si è ammazzata. Vi possiate rompere il corno! Maledetti, mirati! Questi figli d'un cane, hai visto come stanno stessa? Attento, vabbè, vorrei riappoli! Alungo, quando passa Bruno, tagli a strada! Non vabbè cercato! Ma vogliali! Se li riappoli non può... Ma un campano mia tanto, già! Su, vola! Ale! Dormiamo a Viareggio? Non lo so, non facciamo programma. Vedremo! Bravo, come piace a me! Senza programma! Dai, corri, dai! Urra! Urra! Bravo, Avvocato, adesso vai bene! Vedete che ti è bloccato? Oh, ma chi c'è davanti a noi? Superare! Urra, ho passato con te i due giorni più belli della mia vita! Davvero! Eeeh! Ah, tesoro! Eeeh! 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 Superare! Attento al muro! Sì, la oggi sta macchina! Stai calmo, stai calmo! Stai calmo, stai calmo! Hurra! E lo campavolo! Ciao! Ciao! No! No!